Eccoci ad un nuovo appuntamento. In passato ti ho spiegato quali sono le caratteristiche della dipendenza affettiva. Oggi voglio andare oltre, voglio spiegarti quali sono le conseguenze di questo atteggiamento. Ciao, io sono Angelo e sono uno psicologo. Come ti ho detto in presentazione, oggi voglio riprendere il tema della dipendenza affettiva. In video passati ti ho spiegato quali sono le sue caratteristiche e che cosa prova la persona emotivamente dipendente. Ma non sempre si indaga su quali sono le conseguenze di questo atteggiamento mentale. Nel video di oggi ti spiegherò brevemente che cos'è la dipendenza affettiva e come si manifesta e, cosa più importante, ti spiegherò le conseguenze relazionali della dipendenza affettiva e, ancora più importante, a fine video ti dirò quali sono le conseguenze all'interno della persona dipendente emotivamente. Ma prima di andare avanti ti rubo 10 secondi per presentarmi meglio. Io sono uno psicologo a cui piace fare divulgazione psicologica. A questo scopo ho aperto questo canale YouTube. Qui ti parlo di psicologia, autostima, relazioni, miglioramento personale. Se ti interessano questi argomenti, se sei appassionato di psicologia, devi assolutamente iscriverti al canale e mi raccomando non dimenticare di cliccare sulla campanellina delle notifiche. Così sarai avvisato ad ogni nuovo video. Se poi vuoi aiutarmi a fare divulgazione psicologica, metti subito un like al video e aiuterai tantissime persone a vederlo. Ma adesso entriamo nel vivo dell'argomento di oggi, la dipendenza affettiva. Prima di spiegarti quali sono le conseguenze, ricordiamoci un attimo che cos'è la dipendenza emotiva. Con questo termine si intende l'atteggiamento di dipendenza che alcune persone hanno nei confronti della relazione o del proprio partner. In verità le persone dipendenti possono avere questo atteggiamento patologico nei confronti di amici, familiari, anche se nella maggior parte dei casi esplode e diventa evidente nelle relazioni sentimentali. Come dice il termine dipendenza emotiva, la persona che soffre di questo problema sente l'esigenza della relazione. Crede di aver bisogno dell'altra persona, di avere costantemente a disposizione l'oggetto del suo amore. Quando ciò non avviene la persona può provare ansia, disperazione, tristezza, depressione. Può accadere che le persone emotivamente dipendenti siano proprio affamate di relazione al punto di da chiedere continuamente conferma dell'amore dell'altra persona. La persona che soffre di dipendenza affettiva ha il terrore di essere abbandonata, ha il timore che da un momento all'altro la relazione possa scomparire. Purtroppo questa paura, questo timore, la portano ad interpretare in maniera negativa anche le situazioni più normali. Quando Franco rientra a casa, dopo una giornata di lavoro, accade di frequente che sovrappensiero per quello che è successo in ufficio. È mentalmente assente ed è molto occupato a riflettere sulle possibili soluzioni da attuare. La compagna percepisce questo distacco emotivo e prova molta ansia perché vede in questo momentaneo allontanamento una minaccia alla relazione. Anche se lui le spiega che è preoccupato per il lavoro, le pensa che questa sia una menzogna che in realtà lui la voglia lasciare. Le persone che soffrono di dipendenza emotiva, infatti, tendono ad interpretare quello che avviene loro alla luce della loro paura di abbandono. Questo può spingerle alla ricerca di conferme sulla relazione e sull'affetto. Come puoi ben immaginare, questo atteggiamento può avere enormi conseguenze sia relazionali sia all'interno della persona dipendente. Vediamoli insieme. La prima conseguenza relazionale è l'atteggiamento passivo. La persona emotivamente dipendente mette da parte le proprie esigenze, i propri diritti, i propri desideri per andare totalmente incontro alle esigenze, ai desideri e alla volontà altrui. La persona si plasma ad immagine e somiglianza di ciò che l'oggetto del suo amore desidera. La persona è totalmente accondiscendente alle richieste altrui, sminuendo e mettendo da parte i propri bisogni. In generale per atteggiamento passivo si intende l'idea che i propri diritti, i propri desideri e le proprie volontà siano meno importanti di quelli delle altre persone. Molto spesso alla base di un atteggiamento passivo vi è l'idea del dipendente affettivo che grazie a questa strategia non verrà mai abbandonata. Infatti la persona dipendente emotivamente pensa se ti accontento in ogni cosa tu non mi lascerai. Quando Pierpaolo mi ha chiesto una consulenza si era reso conto che la sua relazione non stava andando nella direzione desiderata. Si sentiva totalmente annientato dalla personalità della sua compagna. Abbiamo cercato di capire cosa accadesse all'interno della loro coppia e lui mi descrisse una situazione in particolare. Dalla descrizione si capì che lui era totalmente dipendente nei confronti della sua compagna e aveva assunto un atteggiamento passivo. Lui andava totalmente incontro alle esigenze della sua ragazza e non aveva il minimo coraggio di affermare i suoi diritti o i suoi desideri. Quando abbiamo cercato di indagare cosa ci fosse dietro questo suo atteggiamento il ragazzo mi disse che se si fosse fatto valere lei lo avrebbe lasciato. Era consapevole che se l'avesse accontentata in tutto se l'avesse resa felice lei non lo avrebbe mai abbandonato. In maniera inconsapevole il ragazzo si era totalmente plasmato ad immagine desiderata della ragazza. Questo l'aveva portato a lasciar andare, a lasciar perdere ciò che lui veramente desiderava per accontentare in tutto la sua compagna. Un'altra conseguenza relazionale molto importante, anche conseguenza della prima, è la relazione sbilanciata. Infatti la persona emotivamente dipendente è totalmente proiettata verso la persona più dominante. Questo purtroppo però sbilancia totalmente la relazione. La persona dipendente, anche se affamata di conferme, in verità delega il potere relazionale totalmente in mano alla persona dominante. Purtroppo questo atteggiamento può portare con sé altre responsabilità. Infatti la persona dipendente per paura di prendere delle decisioni, per paura di mostrare i propri desideri o far valere i propri diritti, delega l'altra persona tutte le responsabilità relazionali. Responsabilità quotidiane, responsabilità decisionali, la responsabilità del proprio stato emotivo. Come puoi ben capire, la relazione così si sbilancia totalmente a favore della persona dominante. Se da un lato alcune persone manipolatorie possono sfruttare questo potere per nuocere o avere il controllo sulla relazione, altre volte essere caricati di tutte le responsabilità può essere veramente opprimente. Quando Stefano e Chiara mi hanno chiesto una consulenza, da subito si è capito che lei aveva un atteggiamento dipendente. Aveva delegato tutte le responsabilità della coppia decisionale a lui. Questo atteggiamento però lo faceva sentire particolarmente oppresso. Questa oppressione lo agitava e lo portava a rimproverare la ragazza dicendole di essere più ferma e di decidere qualcosa. Lei, vedendolo arrabbiato, aveva paura di essere abbandonata e diventava sempre più tappetino. Come puoi notare, le relazioni emotivamente sbilanciate possono creare circoli viziosi che possono portare la coppia ad esplodere. Ora invece voglio parlarti di una conseguenza intrapsichica della dipendenza affettiva. Infatti mi trovo spesso a lavorare con persone che soffrono di dipendenza emotiva. E' un tassello che hanno quasi tutti in comune e che non riescono più a riconoscere i propri desideri, i propri diritti, le proprie volontà. Infatti il fatto di dover essere sempre accondiscendenti nei confronti dell'altra persona porta la persona dipendente a non sapere più chi si è e cosa si desidera. Il fatto di essersi plasmati in base alle esigenze della persona dominante porta la persona dipendente a sminuire i propri desideri, le proprie volontà al punto tale da dimenticarle. Questa è una cosa molto molto grave perché la persona ad un certo punto non sa più chi è o cosa desidera. Dopo aver riconosciuto e lavorato sulla dipendenza affettiva chiesi a Chiara di fare un passo oltre e le domandai cosa le piacesse fare. Lei mi disse che a Stefano piaceva tanto andare in bici e piaceva anche a lei. Le chiesi poi se veramente le piaceva la bicicletta. Dopo un attimo di esitazione mi disse che non le era mai piaciuta. Allora la spronerei a dirmi cosa le piacesse in realtà, cosa l'appassionasse e lei rimase in silenzio. Dopo un po' mi disse non lo so. Quello che è accaduto a Chiara succede a tantissime persone che soffrono di dipendenza affettiva. Il fatto di aver sminuito per tanto tempo le proprie esigenze, i propri desideri, i propri interessi, le porta poi a non riconoscerli più, a non sapere più cosa piace, cosa appassiona, a non avere più la propria identità. In terapia infatti si lavora sia sulla dipendenza affettiva ma ancora più importante sull'irriscoprire i propri interessi, le proprie passioni. Riconoscendo ciò che veramente piace fare si può creare un sano confine tra sé e l'altra persona che è il modo migliore per vivere la relazione. In video passati ti ho spiegato quanto sia importante il confine all'interno delle relazioni. Se hai perso il video te lo lascio giù in descrizione. Spero che questo video ti abbia aiutato a comprendere quali sono le conseguenze più o meno manifeste della dipendenza affettiva. Se hai domande su questo argomento tranquillamente puoi scrivere nei commenti. Ti ricordo poi di seguirmi anche su Instagram e su Facebook e mi raccomando guarda questo video sulla dipendenza affettiva e le sue caratteristiche. Qui puoi iscriverti al canale e noi ci vediamo al prossimo appuntamento.